Nascono come scarpe da lento e in effetti sono scarpe da utilizzare solamente sui lenti. Qualcuno ha detto che erano scarpe un pochino più brillanti. Devo confessarvi, siamo appena poco dopo Pasqua, che per molto tempo sono stata in margine del progetto Brooks, anche se in realtà dovrei parlare di visione, a parte la venecologista, questa azienda si è mostrata negli anni davvero una delle più innovative del mercato. Tra l'altro venecologista di cui ormai stanno cavalcando tutti i marchi, magari ne parlerò nei prossimi giorni, per il momento vi consiglio di leggere il libro di Bill Gates che ne racconta in maniera dettagliata dove stiamo andando e cosa sta succedendo nel mondo. Dico l'essenza, la ragione di essere di questo marchio è quella di fornire una scarpa ammortizzata che negli anni non è destinata a cambiare, che invece permette a tutti noi podisti amatori, anche quelli che hanno appena incominciato, di utilizzare una scarpa che subito dopo averla provata vi consente di correre senza avere nessun problema e non pensare nemmeno che la scarpa sia ai vostri piedi. Tra l'altro proprio pensando a queste Glycerin 19 sappiate che conviene utilizzare mezzo numero in più, proprio se volete evitare dei veri pensieri, comunque sappiate che ne parleremo più in dettaglio durante il video. E proprio per questo secondo me, non voglio posizionarmi come una persona che corre forte, ma comunque sono un esperto di marketing, ci sono comunque tre paradossi che questa Glycerin 19 di Brooks ci porta a analizzare in questo video. Questi paradossi ci aiutano a capire come le aziende stanno evolvendo e se posso do qualche spunto di riflessione a chi ci guarda, sapendo comunque che ci troviamo di fronte ad una delle migliori scarpe presenti sul mercato e che ha una visibilità davvero molto interessante, che consiglio comunque a tutti i podisti amatori che hanno appena iniziato a correre. In primo luogo questa Glycerin 19 non è assolutamente cambiata rispetto all'anno scorso, sì è vero è stata adottata una diversa tomaia e è stata aggiunta una maggiore quantità di intersuola, ma l'essenza, quello che rende questa scarpa unica, è proprio quella del progetto iniziale che dicevamo essere quello di permettere a noi podisti amatori di poter correre senza dover pensare alla scarpa stessa. Quindi la nostra recensione di per sé è totalmente inutile, sapendo comunque che nulla è cambiato nel comportamento della corsa e che la value proposition è rimasta fondamentalmente intatta. Paradossalmente sarebbe senza offesa per nessuno quasi inutile andare al negozio perché questa scarpa è davvero sostanzialmente equivalente a quella dell'anno scorso. Non vi consiglio peraltro di comprare il modello precedente, se però avete amato la Glycerin 18 anche questo modello 19 è davvero fantastico. Tra l'altro vi metto qua sotto i link per l'acquisto nel caso in cui vogliate acquistarla online. Il secondo paradosso è che queste Glycerin 19 sono tra l'altro le scarpe più stabili, neutre, presente sul mercato, sono così stabili che vi permettono di correre senza davvero andare verso la tangente anche se magari siete dei piccoli iperpronatori. E qui il podista di Instagram, quello che mi tempesta di domande a cui fondamentalmente non sarei in grado di rispondere, mi chiederà ma non è stato sviluppato anche il modello GTS? Quelle cioè con il supporto antipronazione prendo le prime oppure le seconde, ci dedicherò un video prossimamente ma sappiate che il secondo paradosso è che esattamente il primo modello è davvero già assolutamente molto stabile quindi la versione GTS è quella che sostanzialmente consiglia davvero ai pronatori molto accentuati. Per gli altri sappiate che le Glycerin 19 vi consentiranno di correre comunque in maniera molto stabile. Della stabilità si parla nel libro Athletic Movement Speed fin dalla pagina 4 che per un libro di 350 pagine è sicuramente una dimostrazione dell'importanza di questo concetto. Sappiate comunque se non potete venire ai miei corsi di Livigno che soltanto se siete davvero pronatori molto accentuati vi consiglio di utilizzare queste GTS mentre per tutti gli altri già il modello 19 funziona davvero benissimo. Il terzo paradosso tra l'altro sbagliato scarpa dell'azienda di Seattle è quello che l'azienda dice che la scarpa è la più ammortizzata tra il catalogo. Sappiate però che aggiungendo una quantità di ammortizzazione si aumenta l'instabilità e di conseguenza non sono davvero convinto che questa cosa vada a vantaggio di noi polissiamatori. Per il resto parliamo di una scarpa di 289 grammi di differenziale 10 a non intersuola come al solito DNA loft a cui sono stati aggiunti 4 mm di ammortizzazione la Tomai Engineering Mesh maglia traforata abbastanza elastica più che altro davvero molto avvolgente soprattutto nell'avampiede e nel mesopiede di conseguenza secondo me fin troppo vi consiglio come già dicevo prima di comprare magari mezzo numero in più poi vedremo cosa ci dirà Andrea a questo proposito. La linguetta è davvero molto imbottita così come il colletto sappiate che questa è una caratteristica tipica di Brooks l'abbiamo già visto anche nelle Ghost sono particolarmente interessanti gli elementi riflettenti nel posteriore che vi consentono ovviamente di correre anche durante le serate invernali permettendovi quindi di essere visti magari correndo in città oppure addirittura in una campagna e quindi avere a disposizione questo ulteriore strumento è secondo me un vantaggio competitivo lato Brooks per la suola quest'ultima è una superficie davvero molto ampia nella parte anteriore sono stati sviluppati 7 segmenti separati che consentono di adattarsi ad ogni impatto al terreno e quindi secondo me anche in questo caso Brooks ha utilizzato un design abbastanza conosciuto e comunque davvero vincente tenete conto che soltanto in piccole parti della scarpa stessa il DNA ossia l'intersuola loft è esposta è proprio su quella e dove si verificheranno eventualmente punti di rottura sappiate però che secondo me questa scarpa è destinata a farvi correre a lungo in sintesi e qui torniamo ai tre paradossi l'unica vera novità di questa scarpa è l'introduzione del modello GTS di cui parleremo probabilmente nelle prossime settimane sappiate però che questo modello nonostante sia davvero tradizionale rimane comunque una scarpa molto innovativa e come già dicevamo all'inizio nel progetto Brooks la scarpa stessa vi consente di correre senza dover pensare di avere una scarpa molto pesante ai vostri piedi tra l'altro parlando di vene ecologista sarebbe davvero eccezionale e bucolico se vi iscriveste al canale in modo tale da non poterve perdere ulteriori recensioni che realizzeremo assieme ad Andrea nei prossimi giorni in sintesi il vero problema è che questa scarpa nonostante sia davvero ottima ha avuto solamente dei miglioramenti marginali e di conseguenza il mio ruolo di recensore è abbastanza inutile quindi lascio la parola al mio amico e prodepodista dottor Sofientini il quale e vi consiglio di guardarlo fino in fondo ci racconta qualche perla di saggezza relativa a questa scarpa a chi è adatta e in quali condizioni conviene utilizzarla io nel frattempo vado a bermi un coffee ci vediamo alla prossima stay strong e keep running devi venire anche te a queste feste mondane perché ci cercano ma fanno eh no seguiamo tutti i vostri video stiamo diventando le star del tubo ma secondo te Andrea ci sono buongiorno innanzitutto ciao a tutti ora che hai fatto più di 100 km non lo so forse ero anche a 200 adesso non mi ricordo cosa ne pensi di queste Glycerin 19? allora diciamo che ero partito prevenuto io con Brooks non mi sono mai trovato così tanto bene mi ricordo che avevo comprato le mie prime Ghost 6 forse ma solamente perché c'era quel colore blu rosso e bianco adesso il compito aspetta te cercarle sull'etere e niente mi sono sempre trovato un po' malino ma perché non aiutavano la mia la mia corsa diciamo un po' più spostato sull'avampiede queste le abbiamo provate un sabato mattina era che faceva relativamente freschetto si è partiti durissime ho detto no un disastro di scarpa il peggio del peggio a metà della corsa mi sembravano un po' più diventate morbide quando sono ritornato a casa le ho riprovate per altre due o tre volte mi sembrano sempre un po' durette poi magari anche io magicamente un pochino stavo meglio le ho sentite più morbide quindi secondo me un pochino si sono smollate e devo dire che sono state delle ottime compagnie per fare le corse lente secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe? allora diciamo che è una scarpa per tutti posso usarla io per fare i lenti lunghi di tutti i giorni i lunghi maratona non mi azzarderei io a farli sono una scarpa diciamo per tutti sia per chi pesa relativamente poco per chi pesa medio e per chi pesa tanto alla fine sono tra le più ammortizzate di casa Brooks quindi fanno sempre il loro sporco lavoro è ovvio che più pesi meno dureranno però direi che anche sugli 80 kg le utilizzerei e invece a livello di ritmo su quali ritmi le consiglio? quella tra virgolette è una nota dolente nel senso nascono come scarpe da lento e in effetti sono scarpe da utilizzare solamente sui lenti qualcuno ha detto che erano scarpe un pochino più brillanti ma secondo me no assolutamente sono scarpe davvero da lento faccio anche fatica a fare gli svelti per dire perché è una scarpa che è proprio classica tacco punta e ti obbliga proprio al tacco punta anche se magari vorresti spingerla di avampiede quindi diciamo che è proprio una scarpa da relax alla fine c'è un po' di consumo sul tacco cosa che di solito non ti succede come lo valuti questa cosa? no a dire il vero il consumo sul tacco ce l'avevo anche sulle ghost ma alla fine la transizione del tacco punta ce l'avevo anche lì questa forse è un pochino più duretta la gomma sembrerebbe del battistrada mi sono reso conto che quando ero davvero davvero stanco non era così piacevole diciamo correrci sopra cioè ti accompagnava per le corse ma non ti dava quella freschezza che invece andavi a ricercare nella scarpa che per dire mi ha dato la invincible la invincible quando ero disastrato mi dava il piacere di corso invece queste qua quando ero disastrato mi facevano correre il relax però non mi davano una buonissima sensazione quasi mentivano le invincible mi davano delle buone sensazioni anche se non le avevo e invece queste qua diciamo che ti aiutano lo stesso a correre quando sei scassato e invece a livello di stabilità della scarpa sappiamo che come abbiamo detto ci sono due modelli cosa ne dici questo modello neutro? beh guarda ti dirò anche il modello neutro è molto stabile perché alla fine è una scarpa duretta cioè duretta non ha lo zoom x per dire come la invincible non è così tanto larga come la invincible quindi alla fine risulta molto più stabile devo dire che anche la tomaia aiuta molto perché comunque è la solita tomaia classica di Brooks che ti tiene il piede ben saldo sull'intersuola diciamo e a livello di numero suggerisci stesso numero o mezzo numero in più? c'è stato chiesto anche perché comunque sembra abbastanza fasciante la scarpa infatti questa cosa qua è da valutare non saprei dirti del numero sono un po' in dubbio la prima volta che l'abbiamo provata mi sembra davvero tanto stretta poi mi sono abituato quindi adesso non ti saprei dire se prendere un numero in più sicuramente quel mezzo numero in più lì non guasta quindi per dire io al 27 e mezzo un 28 non vi cambia la vita vi lascio solamente il piede un attimo più libero poi diciamo che mi ero abituato ormai alle topo ad avere l'avampiede è stra largo e stra comodo e quindi diciamo che questa qua che ti fascia un pochino di più sull'avampiede la sentivo adesso e invece a livello di tomaia come la valuti? la tomaia è io l'ho sempre detto che non avevo le scarpe estive le scarpe invernali anche se le Pegasus 37 poi mi hanno fatto ricredere questa forse la mettere nelle scarpe autunnali invernali perché hanno una tomaia relativamente pesante ripeto secondo me fa il suo lavoro perché alla fine ti rende il piede stabile sicuramente non è traspirante come tante altre scarpe per me non è un problema anche perché finire l'anamente col piede un po' sudato non è assolutamente un grosso problema quindi alla fine sono anche contento di questa tomaia che ti tiene il piede saldo e invece a livello di battistrada cosa ne dici? ma il battistrada si sta relativamente consumando ma non tantissimo ha un buon grip sul terreno non tantissimo sulla pista bianca ma tanto ripeto è una scarpa nata per fare le corse lente quando fai le corse lente comunque è relativamente salda al terreno non ti scivola via il piede quindi diciamo che per quello che è nata fa perfettamente il suo lavoro sto cercando di trovargli delle criticità ma alla fine per quello che devono fare va benissimo quindi scarpa da lento che ti fa fare le corse lente nella maniera migliore quindi direi che va benissimo così invece Andrea a livello di punti di forza e punti di debolezza di questa scarpa? Max ha dimenticato il fogliettino oggi quindi è un po' in difficoltà allora sicuramente i punti di forza che è una scarpa ammortizzata e comoda punti di debolezza secondo me che per chi corre di avampiede ti taglia un po' perché ti obbliga a fare la corsa di tacco punta che è il punto di forza diciamo per tanti amatori ma non per tutti diciamo quindi un atleta che corre di avampiede come me che predilige una corsa di avampiede con questa cosa fa un po' più di fatica diciamo si sente il piede un po' costretto e obbligato a una corsa a tacco punta e invece quando faremo il confronto con le Ghost l'altra volta abbiamo detto che non sapevamo veramente dal punto di vista lo sapevamo dal punto di vista tecnico ma non dal punto di vista di comportamento nella corsa quando faremo il confronto tra queste due scarpe? ma guarda io queste cose le ho usate un bel po' le Ghost le ho usate un bel po' quindi direi che adesso finiamo questo video e facciamo l'altro va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima ciao alla prossima ciao a tutti 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 ciao a tutti